Un incendio, quello di domenica, ha durato due giorni e che ha riguardato il territorio di Lazzaro e Motta San Giovanni. Un rogo che ha completamente devastato al punto da carbonizzare l'intera area di Comunia, interessando di impianto di compostaggio. Bruciati diversi quantitativi di rifiuti depositati a cielo aperto in diversi punti della discarica e incomprensibilmente denuncia l'Ancadic non smaltiti in impianti autorizzati nonostante le continue sollecitazioni. Anche l'area esterna dell'isola ecologica non è stata risparmiata dalle fiamme che hanno bruciato parte della geomembrana e le tubazioni, oltre che alcuni alberi di olivo. Interessato anche il sito in frana nelle vicinanze del cimitero, costituito da rifiuti, aumentando così il rischio per la circolazione stradale, visto che lì proprio una frana, verificatisi alcuni anni addietro, ha creato un vuoto e il rischio che i mezzi possono finire nel sottostante vallone c'è e persiste. L'Ancadic, preoccupata per la salute pubblica e per le sostanze nocive e irrespirabili, ha diverse volte chiesto la bonifica dei siti inquinati. Adesso, grazie all'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, le fiamme sono state domate.